Qual è il deterioramento cognitivo vascolare? Il deterioramento cognitivo vascolare è una forma di compromissione cognitiva associata a una malattia cerebrovascolare di base. I ricercatori del National Institute of Neurological Disorders ha indostro che stimano che una persona su tre può aspettarsi di avere un itutuso o una demenza, e talvolta entrambi, nella loro vita, e il danno vascolare cognitivo sono spesso coinvolti. La ricerca sulle malattie cerebrovascolari è un campo di grande interesse per molte persone interessate all'invecchiamento e alla cognizione, specialmente se le vite umane aumentano e espongono le persone al rischio aumentato di ictus e di altre malattie dell'invecchiamento. I pazienti con deficit cognitivo vascolare possono sperimentare una varietà di sintomi. Può verificarsi una perdita di memoria, oltre a difficoltà nel completare compiti cognitivi, problemi con il linguaggio e altri problemi come rumore e cambiamenti comportamentali. L'area del cervello coinvolto può variare e, di conseguenza, i sintomi possono essere molto ampi. Alcuni pazienti diventano semplicemente smemorati mentre invecchiano, mentre altri possono sperimentare cambiamenti estremi di personalità e iniziare ad agire aggressivamente o ad assumere altri comportamenti indesiderati. Una causa comune di deterioramento cognitivo vascolare è l'ipertensione, associata a danni ai vasi sanguigni in tutto il corpo. I pazienti possono anche sperimentare ictus, sia in forma ischemica o emorragica. Gli ictus ischemici causano danni al cervello interrompendo temporaneamente l'errorazione sanguigna, portando alla morte cellulare e ai successivi deficit cognitivi. In un ictus emorragico, una rottura di un vaso nel cervello porta a sanguinamento, causando un aumento della pressione nel cranio e l'uccisione delle cellule cerebrali. Malformazioni vascolari nel cervello, tra cui malformazioni congenite, così come i tumori vascolari, possono anche essere causa di deterioramento cognitivo vascolare. Queste malformazioni possono esercitare pressione su aree chiave del cervello, inibendo l'attività cerebrale. Possono anche rompersi, causando ictus. L'intervento chirurgico per curarli comporta dei rischi che includono ulteriori danni cognitivi causati dal lavoro nelle strutture limitate e delicate del cervello, dove è facile danneggiare accidentalmente parti del cervello durante l'intervento chirurgico. Quando le persone invecchiano, di solito viene chiesto loro di sottoporsi a regolari valutazioni mediche per verificare i segni di comuni malattie dell'invecchiamento, dall'osteoporosi al deterioramento cognitivo vascolare. Se identificati precocemente, possono essere disponibili più opzioni di trattamento, sebbene qualsiasi danno identificato durante lo screening possa non essere reversibile. I più giovani possono anche sviluppare queste condizioni e le persone a rischio possono essere avvisate di essere sottoposte a screening prima che raggiungano la solita età di esordio. I fattori di rischio per il deterioramento cognitivo vascolare possono includere fumo, diabete, ipertensione cronica e disturbi emorragici.